Gli equipaggi della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nel territorio provinciale lo scorso fine settimana, hanno accertato 48 violazioni in materia di circolazione stradale. 19 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 6 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 5 per guida combatente scaduta, 7 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo e 8 per altre sanzioni. Tali controlli, attuati nell'ambito della quotidiana azione di prevenzione degli incidenti stradali, mirano alla sensibilizzazione degli utenti per l'affermazione di una cultura della guida sicura, data da un'intensificazione degli spostamenti e dal ritorno dei fenomeni di movita tipici del fine settimana.